L'Apenser Ma poi cambia strategia Perché? Che cosa lo spingi a fare? Monica Ivanovich, 21 anni Padre di questo, madre italiana Ispirato sempre a questo cazzo di libro Ha studiato minuziosamente i gesti Azioni Un vero e proprio copione teatrale È un borderline Per come riduce le sue vittime Senza dubbio è un sadico torturatore Se non lo fermiamo in tempo non credo che smetterà Dobbiamo aspettare la prossima mossa Chi dobbiamo cercare? Una persona apparentemente normale Sì Molto No È Di Ste Grazie a tutti.